ecco una bella scia di condensa lunghissima perché l'aereo dei pezzi di merda stanno avanzando tra le nuvole? no! tra la merda perché il cielo dovrebbe essere così oggi visto che è una fantastica giornata ma tutto questo chiaro di merda tra poco questa cazzo di scia lunghissima si allarga io vorrei capire se fino a dieci anni fa la gente vedeva il sole così siete solo dei disperati bastardi pecore belanti dormienti del cazzo